Storico sciopero a Milano ad incrociare le braccia per la prima volta i dipendenti di Borsa Italiana che fa parte del gruppo Euronext. A stensione dal lavoro nelle ultime due ore della giornata, ma nessun impatto sugli scambi. Vorremmo che la professionalità e il sacrificio che hanno avuto i lavoratori italiani di queste aziende venga riconosciuto e venga portato avanti. Anche perché non dimentichiamoci, qua dentro c'è il debito italiano. È il primo sciopero della storia del gruppo, si protesta contro l'idea di spostare il centro decisionale a Parigi e la conseguente marginalizzazione della piazza milanese. Che attengono a tre questioni fondamentali che sono il salario, l'orario di lavoro e l'organizzazione del lavoro e l'occupazione. Naturalmente questi tre temi sono collegati a un tema macro, diciamo, che è quello della governance. Lo spettro è quello del disinvestimento in Italia e della delocalizzazione, 800 le persone operative a piazza affari. I sindacati non si oppongono al cambiamento, ma chiedono garanzie sulle retribuzioni e sul peso delle attività italiane. Lo sciopero è stato anche indetto per alcune inadempienze contrattuali da parte della stessa azienda che si rifiuta di applicare gli aumenti economici previsti nell'ultimo rinnovo del contratto nazionale. Il ministro Adolfo Urso ha convocato i sindacati il prossimo 3 luglio per approfondire la vicenda.